Questa è la cotta di maglia, la cotta di maglia, devo usare quattro anelli chiusi e uno deve chiudere i quattro anelli, vedete, uno, due, tre, quattro e uno li chiude i quattro, poi si prendono altri quattro già pronti, si mettono attaccati così e l'altro che chiude l'anello, eccolo qua, vedete, poi si chiude, con la pinza si chiude e si va avanti così, questo è il sistema per fare la cotta di maglia.